Direttore, quali sono i progetti dell'ACI? Sono rivolti all'educazione stradale e quindi alla sicurezza stradale. Anche quest'anno con la riapertura dell'anno scolastico proporremo agli istituti scolastici della città e della provincia i nostri corsi rivolti ai bambini, quindi bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie. Abbiamo dei format che comunque da qualche anno stiamo già portando in giro sul territorio che sono appunto il trasportaci sicuri, due ruote sicure e a passo sicuro. Sono comunque format rivolti a determinate categorie di utenti, quindi insomma ad esempio il trasportaci sicuri è rivolto più ai bambini dei primi anni delle scuole elementari, bambini che comunque ancora utilizzano il seggiorino per l'auto. Di questi corsi oltre che ai bambini comunque verranno anche rivolti ai genitori, appunto dove insegneremo il corretto utilizzo del seggiorino per il bambino, oltre che al corretto utilizzo degli altri sistemi di ritenuta, quindi le cinture di sicurezza. Andremo anche a sviscerare quali sono gli articoli più importanti del codice della strada, dove comunque è indicato il perché e insomma è anche la sanzione che viene determinata nel caso di mancato o non corretto utilizzo di questi sistemi. Poi andremo a insegnare sempre ai bambini, comunque la città è una città come direi non di grosse dimensioni, quindi spesso e volentieri molti bambini, ragazzi vanno in bicicletta anche a scuola oppure nel pomeriggio insomma utilizzano la bicicletta per gli spostamenti e quindi insegneremo anche loro il corretto utilizzo della bicicletta in città e poi l'ultimo format invece è a passo sicuro. Si tratta di un DVD sotto forma di cartone animato dove andremo ad indicare le situazioni scorrette che ci si trova a vivere durante la vita sulla strada e affiancando le situazioni invece corrette che bisogna mettere in atto. L'ACI si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori? Si, con un progetto denominato Ready to Go abbiamo portato in provincia in alcune autoscuole anche un nuovo metodo di insegnamento ai ragazzi che si accingono a prendere la patente. Ad esempio l'anno scorso i ragazzi neopatentati delle nostre autoscuole sono stati invitati nel centro di guida sicura di Arese a Milano a svolgere le prove in un circuito in completa sicurezza, quindi insomma i ragazzi erano veramente contenti, entusiasti di questa attività e sicuramente quest'anno continueremo anche.